Ci sono dei superstiti e dei sopravvissuti e che quelli possono essere la testimonianza più vera, più importante se vogliamo di un evento vissuto, ma c'è anche una memoria che viene ricevuta da questi e che è rappresentata dalle giovani generazioni e che deve comunque raccontare con empatia il Vaillant e trasmettere i segnali e i significati del Vaillant alla gente e alle nuove generazioni. Bentornati alla serie dedicata alla memoria del disastro del Vaillant. Nel primo episodio, disponibile al link in descrizione, trovate maggiori informazioni sulle dinamiche del disastro. Ora, come di consueto, è il momento di dare la parola alla voce del Vaillant. Sopravvissuto al disastro, nasce e cresce a Longarone fino a quella terribile notte, dove perde genitori e fratello minore. Si laurea in architettura a Venezia nel 1974, con una tesi sulla ricostruzione di Longarone, dove fa ritorno per svolgere la sua attività di libero professionista. Progettista e direttore dei lavori di numerose costruzioni legate alla ricostruzione in campo residenziale ed industriale, è stato presidente protempore dell'Associazione Superstiti del Vaillant dall'anno di fondazione nel 2000 fino al 2013 e presidente protempore dell'Associazione Vaillant, il futuro della memoria, dal 2013 per altri dieci anni fino al 2023, sessantesimo anniversario del disastro. Signore e signori, abbiamo l'onore di avere con noi oggi Renato Migotti. Benvenuto Renato, come va? Buonasera, sì, benvenuto anche a te, ti ringrazio per la richiesta di questa intervista e adesso mi aspetto che tu mi faccia delle domande a cui spero di poter rispondere sinteticamente insomma. Grazie a te per essere con noi oggi. Partiamo diciamo dal fatto che tu all'epoca del disastro nel 1963 avevi 16 anni. Che ricordi hai della città di Longarone prima della notte del 9 ottobre 1963? Beh, intanto direi che Longarone era una cittadina importante, tra le più importanti della provincia di Belluno a quei tempi. Era anche una cittadina fiorente di... fin già dal 1700, se vogliamo andare all'indietro nella sua storia. Era fiorente di attività industriali, commerciali, artigianali, ma anche era ricca di eventi sociali, culturali. Perché probabilmente per il suo posizionamento geografico al centro, a un crocevia di quattro valli, la valle Belluna a sud, la valle del Cadore a nord, la valle a ovest della Val Zoldana e a est la valle Cellina e la valle del Vajon, erano le quattro valli e sono le quattro valli che confluiscono su Longarone. Quindi storicamente è diventata una città piuttosto importante appunto per questa posizione strategica nel territorio. E venendo al Pre-Vajon, posso ricordare il periodo in cui partì la costruzione della diga. Ecco, io frequentavo le elementari a Longarone e ricordo che il nostro maestro ci diceva di sentirci orgogliosi di vivere in un'area, in una zona dove si stava costruendo la diga più alta del mondo, la diga a doppio arco più alta del mondo. Tant'è che avevamo anche rappresentata la costruzione della diga nell'ultima copertina dei nostri quaderni di scuola. Ecco, dovevamo essere orgogliosi anche per il fatto che tanta gente aveva incominciato a lavorare per la costruzione della diga e non era almeno costretta per un lungo periodo a prendere la valigia e andare a lavorare all'estero perché la nostra è stata un'area povera fino agli anni 50 del dopoguerra e che ha conosciuto molta emigrazione. Quindi il fatto stesso che tanta gente avesse trovato anche la possibilità di lavorare vicino a casa e stare vicino alla famiglia, questo aveva arricchito le persone. Un arricchimento sociale c'è stato anche appunto in seguito alla costruzione del Vaillant perché alcune famiglie di tecnici sono venute ad abitare, a vivere a Longarone e io ho frequentato l'elementari anche con i figli di questi tecnici e queste persone in qualche maniera hanno fatto crescere anche culturalmente il nostro paese. Tant'è che insomma durante il periodo della costruzione della diga possiamo ricordare un periodo molto fiorente della nostra cittadina. Per quanto riguarda invece il discorso di come noi seguivamo la costruzione della diga possiamo dire che i longaronesi erano poco a conoscenza delle dinamiche costruttive non conoscevamo ad esempio delle rivendicazioni fatte dagli ertocassani che venivano espropriati dei loro terreni e alcune anche case perché naturalmente la loro posizione, la posizione di questi terreni e di queste case doveva essere poi inondata dall'innalzamento dell'invaso della diga e quindi erano terreni che dovevano essere abbandonati. Di questo noi, io fra l'altro ero anche un ragazzo quindi non è che potessi seguire il tutto. Posso dire solo che in famiglia si respirava io attraverso ciò che diceva il mio maestro ma anche attraverso i discorsi sulla diga che si faceva in famiglia. Mio padre ad esempio era maresciallo della forestale mi ricordo che nel 1956 partecipò al varro della centina del ponte sul Vaillant che era un ponte un po' particolare sotto il profilo ingegneristico e ci raccontò appunto di aver partecipato e aver visto quest'opera di ingegneria naturalmente avveniristica. L'unica persona che in famiglia però invece aveva un sentimento negativo sulla costruzione della diga era mia mamma, mia madre che temeva che questa opera così grandiosa potesse invece avere un risvolto negativo che potesse essere invece anziché frutto di tecnologia e di progresso frutto invece di un danno irrimediabile. Io devo dire che il senso, il senno e il senso di mia mamma ma anche di altre persone, di altre donne principalmente è stato veritiero. Adesso io capisco perché tu dici che a Longarone diciamo si percepiva poco la costruzione della diga perché essendo stato lì e chi c'è stato a Longarone lo sa la diga appare quasi come una piccola lingua di cemento armato in mezzo alle montagne non si vede tantissimo più che altro non se ne percepisce la maestosità la grandezza vista da Longarone tu raccontavi che il tuo maestro diceva di essere fieri di quest'opera ma oltre diciamo al tuo maestro comunque a scuola in paese hai raccontato dei tuoi genitori ma magari con gli amici cosa si pensava di questa diga c'era preoccupazione poi con il passare del tempo quando sono arrivate quando c'è stata la frana a Ponte 6 nel 59 e la frana del 4 novembre 1960 proprio nel bacino del Vajont ma ti dirò che purtroppo io comunque ero un ragazzo e quindi probabilmente questi temi posso riportare solo ciò che ricordo nel dibattito in famiglia era ancora un ragazzo però posso anche dirti con tranquillità che la gente di Longarone era poco a conoscenza di quelle che erano le problematiche sulla costruzione della diga stessa per cui poi la stampa i quotidiani erano periodi in cui la gente non è che acquistasse il quotidiano tutti i giorni fosse aggiornata non c'era la televisione c'era la radio nelle case nelle famiglie un po' più abbienti per cui non eravamo a conoscenza delle problematiche e di ciò che poteva essere collegato al disastro che è avvenuto tant'è che la grande la grande distruzione della nella tragedia dell'ottobre del 1963 avviene proprio a Longarone il maggiore numero di morti avviene a Longarone perché a Longarone non si sapeva dei problemi della montagna che stava scendendo certamente facciamo un salto temporale quindi abbiamo parlato della Longarone come era prima diciamo dello stato d'animo per quello che tu puoi ricordare dalla tua esperienza personale e di quello che che si diceva in famiglia arriviamo direttamente al giorno del del 9 ottobre 1963 io immagino che in questa in questo ambiente che tu hai appena descritto sembrasse una giornata normale come come tante altre all'insegna del del ritorno a scuola quindi ecco posso posso ricordare che eravamo nei primi giorni di scuola quel giorno avevo assistito la prima la prima lezione di chimica purtroppo non avevo ancora il libro di chimica del nuovo anno scolastico mentre un mio amico un mio compagno di 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 banco ce l'aveva e quindi quel pomeriggio sono andato a casa sua e gli ho chiesto se me lo prestava ero curioso di così di approfondire un attimino questa materia di dare un'occhiata in attesa che poi arrivasse in libreria anche la copia per me e quindi quella sera mi sono proprio coricato dando un'occhiata a questo libro di di chimica perché era una nuova materia che mi incuriosiva ecco ecco se voglio se vuoi vado un po' avanti a raccontare ecco quella sera quella sera io dopo cena i miei genitori sono usciti di casa e sono andati in visita dal maresciallo dei carabinieri e mio padre era maresciallo della forestale ed era molto amico del maresciallo dei carabinieri a me dissero che andavano in visita poi poi col senno di poi credo che mio padre invece sia stato chiamato dal maresciallo dei carabinieri quelle ore che erano immediatamente prima del disastro del vaionte che ci siano state telefonate e convulse e problemi probabilmente per cui il maresciallo dei carabinieri avesse bisogno di un supporto e questo gliel'avrebbe dato mio padre ma eravamo anche amici della famiglia per cui probabilmente mia mamma era andata così a chiacchierare con la moglie di questo maresciallo dei carabinieri tant'è che i miei genitori comunque sono usciti di casa io ho accompagnato a letto mio fratello che dormiva in una stanza adiacente alla mia e io mi sono messo sotto le coperte dando un'occhiata a questo libro di chimica e poi ho spento la luce e mi sono appisolato ecco ero nel dormiveglia e sono stato svegliato da un gran fragrore da un gran rumore e ho sentito delle grida e poi la realtà è stata quella di trovarmi in mezzo alle macerie 200 circa metri dalla casa in quei momenti sono volato con la casa probabilmente lo spostamento d'aria che era davanti alla massa d'acqua ha probabilmente distrutto mezza l'ongarone poi l'acqua ha fatto il resto si è portata via tutto io sono volato quindi con la casa sono finito sotto le macerie il materasso del mio letto in qualche maniera ha protetto il mio corpo e quindi mi sono salvato in questo modo insomma dopodiché insomma ho gridato e sono venuti a tirarmi fuori dalle macerie e mi hanno portato in ospedale a Pieve di Cadore dove sono rimasto per una ventina di giorni io ricordavo all'inizio quindi che tu nel in quella notte hai perso sia i tuoi genitori che tuo fratello tuo fratello minore che dicevi che era nella stanza adiacente alla tua miei genitori sono morti nella caserma dei carabinieri e mio fratello ovviamente è morto pur essendo in una camera adiacente alla mia io miracolosamente mi sono salvato fra l'altro uno dei pochissimi salvati proprio che abitava nel centro del paese mi è rimasta una sorella che per sua fortuna e per mia fortuna era non era in casa era a Vittorio Veneto da degli amici per festeggiare la vendemmia e quindi si è salvata insomma e con lei ho poi fatto famiglia fino alla maturità quindi sì diciamo a te cosa è successo a te e quello che è rimasto della tua famiglia quindi mi dicevi tua sorella poi da quella notte in poi mi hai detto sei stato venti giorni in ospedale a Pieve di Cadore sì successivamente poi sono venuto sono sceso da Pieve di Cadore sono andato ad abitare fino a Natale del 63 presso una famiglia amica dei miei genitori principalmente di mio papà di forestali che abitavano a Belluno e sia io che mia sorella siamo stati accolti da questa famiglia fino a Natale dopodiché verso Natale siamo andati a vivere presso i nonni materni che vivevano a Codisago insieme a degli zii e quindi da quel Natale del 63 abbiamo cominciato nuovamente a vivere nella zona del Longaronese insomma a Codisago i fine settimana e durante la settimana io andavo a scuola a Belluno mia sorella lavorava a Belluno per cui in poco tempo ci siamo anche trovati un appartamento e ci siamo messi a vivere insieme a Belluno però raggiungevo tutti i sabati e tutte le domeniche i nonni materni a Codisago e poi dopo Belluno sei andato a studiare a Venezia dico bene sì a Belluno ho fatto le superiori e poi sono passato ad ingegneria a Padova prima ho fatto il bienio ho quasi finito il bienio di ingegneria a Padova avrei voluto andare a frequentare architettura ma siccome avevo il diploma di perito industriale non mi era stato dato la legge non prevedeva l'accesso dei diplomati degli istituti tecnici ad architettura bisognava aver fatto il liceo a quei tempi poi nel 1970 c'è stata la liberalizzazione dei titoli delle superiori e allora sono passato da ingegneria ad architettura a Venezia e lì sono arrivato insomma a laurearmi nel 74 dopodiché si è fatto immediatamente il ritorno all'Ungarone dopo la laurea oppure si è stata ancora un po' via già da 71 sono tornato a vivere completamente all'Ungarone perché mia sorella poi nel frattempo aveva costruito si era sposata e con il marito avevano deciso di costruirsi la casa all'Ungarone per cui sono vissuto un po' con mia sorella e un po' sempre con i miei nonni materni diciamo da lì in poi come è proseguita la tua vita e quale impatto ha avuto quella notte su di te ma ti dirò che ho sempre vissuto con la voglia di tornare a Longarone tornare dai miei nonni tornare in questo luogo mentre vivevo con dei compagni di università a Venezia a Padova prima e poi a Venezia con dei ragazzi del Cadore che non venivano tutti i weekend a casa no? perché mi dicevano che tutto sommato era meglio rimanere in città era più divertente rimanere presso la città dove si studiava insomma no? io invece ho sempre sentito questo richiamo questa necessità di raggiungere gli amici quei pochi amici che erano rimasti perché la stragrande maggioranza degli amici e di compagni di scuola era naturalmente deceduta nel disastro ma sentivo proprio questo bisogno di raggiungere la famiglia dei miei nonni di mia sorella e quindi c'è stato questo richiamo continuo per cui una volta laureato mi sono sistemato a Longarone mi sono sposato ho avuto dei figli ho svolto tutta la mia attività libero professionale sempre a Longarone proprio attratto da queste radici Renato posso chiederti tu sei architetto che cosa ne pensi dell'architettura di Longarone post Vaillant quindi della ricostruzione allora è un tema molto interessante che è stato anche affrontato dibattuto proprio nel sessantesimo da professori dello IUAV dell'istituto di architettura di Venezia ecco dobbiamo partire dal fatto che Longarone è stata ricostruita è stata ricostruita attraverso una progettazione generale sia di tipo urbanistico sia di tipo architettonico attraverso un un equip di architetti che era guidato dal dal professor Samonà che allora era anche direttore dello IUAV di Venezia le prime costruzioni che furono fatte furono di un'architettura che trovò che la gente i longaronesi rimasti a Longarone per la ricostruzione per ricostruire anche il loro il loro paese li trovò contrari tant'è che tolsero l'incarico al professor Samonà e lo diedero ad altri architetti che sembrava fossero più più inclini a sentire le richieste di costruzione dei longaronesi stessi tant'è che fu aperto uno sportello del cittadino dove tutti potevano andare a consultarsi in comune e dire prospettare anche le loro soluzioni nel frattempo però già alla fine degli anni sessanta già erano partite però le prime costruzioni che davano l'idea di un'impronta architettonica notevolmente diversa dall'architettura precedente è evidente che la gente i longaronesi rimasti erano ancorati all'architettura settecentesca no di impronta settecentesca del di longarone no e quindi vedere costruire edifici no in cancestruzzo armato faccia vista e così evidentemente non erano preparati ma non erano neanche preparati a discutere probabilmente sui grandi temi della ricostruzione sia di tipo urbanistico che architettonico per cui nacquero alcuni edifici che dettero con un'impronta che era un'impronta una nuova impronta una nuova architettura un'architettura moderna ecco furono avversati dal comitato di cittadini per cui l'architettura poi cambiò di forma e di stile e fu oggetto di compromesso tra questo ufficio del cittadino e il cittadino stesso che prospettava le proprie esigenze e quindi siamo arrivati alla fine degli anni 80 all'inizio degli anni 90 alla conclusione della ricostruzione del centro abitato principalmente di Longarone che ha questa la fisionomia che ci si ritrova oggi direi che la popolazione ha voluto questo tipo di Longarone anche se non era preparata non aveva le conoscenze anche così professionali diciamo per avere per dare delle linee e quindi ascoltarono le linee guida del comune e insieme costruirono il paese che tutt'oggi viene vissuto dai Longaronesi come un nuovo paese allora mentre i superstiti vivono ancora nel ricordo della loro vecchia Longarone e immaginano che se fosse rimasta oggi sarebbe un gioiello di architettura perché aveva era aveva degli edifici notabili molto importanti molto interessanti e qui è un centro abbastanza compatto per cui sicuramente un centro storico di grande interesse sarebbe oggi purtroppo questo non c'è e i Longaronesi però vivono la nuova città i nuovi Longaronesi come ripeto i vecchi Longaronesi vivono un po' nel ricordo della vecchia Longarone i nuovi invece non trovano grosse critiche all'architettura e all'urbanistica di Longarone ecco uno dei pochi che però apprezza quei primi interventi e pochi interventi che sono stati realizzati con un'architettura diversa da quella tradizionale sono io mi sono avversato più volte mi sono scontrato più volte con i Longaronesi perché sono uno dei pochi che apprezza queste architetture che hanno così fanno oggi stranamente fanno da richiamo all'attenzione di studenti di architettura di architettura principalmente ma non solo perché la valle di Longarone è chiamata anche la valle del moderno perché appunto si trovano alcune architetture importanti che sono storicamente riconducibili ad un periodo di fine secolo e sono anche richiamate in diversi libri di architettura moderna per cui per me Longarone è un compromesso tra questa architettura e l'architettura più semplice tra di fatto però che insomma la gente di Longarone vive non vive questo contrasto questo contrasto forse lo viviamo noi vecchi longaronesi e superstiti insomma quindi anche adesso ci stai ci stai parlando da Longarone si si questo è molto interessante perché diversi superstiti e sopravvissuti hanno affermato in diverse occasioni interviste che ho avuto modo di di vedere di non aver avuto il coraggio o comunque la volontà di di parlare del disastro per molto tempo e in tanti si si riconoscono diciamo riconoscono nel nello spettacolo di Marco Paolini del 1997 quello che è andato in diretta anche in televisione riconoscono in quello spettacolo un punto di svolta per che che li ha fatti sbloccare diciamo in qualche maniera è stato così anche per te oppure tu ne hai sempre voluto parlare o comunque hai sempre voluto mantenere viva la memoria del disastro di quella notte ma allora ti dirò che per anni io ho taciuto come siamo stati in silenzio quasi quasi tutti i superstiti i sopravvissuti solo per dirti una cosa ho frequentato degli amici che erano sopravvissuti con essi non ci siamo mai parlati della nostra esperienza personale e tutt'oggi non ne parliamo per cui c'è stato un periodo un lungo periodo di silenzio ma che è stato generale è stato unanime io ho fatto anche delle ricerche in merito a questo come mai una popolazione così duramente colpita non parla della sua storia per decenni ecco ho scoperto che gli studiosi gli psicologi in particolar modo quando studiano il comportamento di popolazioni che sono colpite da tragedie hanno verificato nella storia che per un lungo periodo la gente non ne parla vedi l'esempio della guerra per dire dei nostri nonni vedi l'esempio della Shoah e quindi ci vuole che passi del tempo perché la gente probabilmente riesca a metabolizzare il trauma e poi lentamente ne possa uscire noi posso dire che siamo usciti con Paolini ma prima di Paolini una spinta piuttosto forte ci è stata data anche dalla Tina Merlin quando scrisse nel 1982 il libro sulla pelle viva ecco tant'è che Paolini si rifà molto allo scritto della Tina Merlin è però con Marco Paolini che la gente incomincia ad aprirsi comincia a sentire anche il desiderio di condividere il proprio trauma e la propria memoria con gli altri con le altre persone l'orazione civile di Marco Paolini ci apre diciamo una coscienza civile alla nazione ma l'ha aperta anche a noi aiutandoci così a superare il nostro trauma e lentamente abbiamo incominciato a parlare della nostra storia e che poi naturalmente è stata anche ulteriormente valorizzato questo discorso anche attraverso il film di Martinelli nel 2001 Vaiont la diga del disonore certo sì io ho visto ovviamente entrambi letto svariati libri tra cui anche quello di Titina Merlin credo di aver letto la versione quella forse più aggiornata degli anni 90 perché sono state diverse riedizioni sì ho accennato prima al fatto che sei stato per 23 anni sostanzialmente il presidente dell'associazione superstiti del Vaiont che è divenuta Vaiont il futuro della memoria ci racconti come nasce questa associazione qual è la sua funzione e come mai hai deciso di smettere dopo 23 anni di dimetterti dalla sua presidenza lo scorso dicembre del 2023 proprio alla fine dell'anno che segnava il sessantesimo anniversario del disastro allora l'associazione che ho preceduto per 23 anni nasce ancora alla fine degli anni 90 e nasce da una volontà di alcune persone con cui ero anche in amicizia questa volontà di di aver necessità di trasmettere la memoria del Vaiont che rischiavamo di perdere che andasse un po' nell'oblio ma anche perché c'era la necessità di riconoscere il Vaiont come un evento unitario è vero che avesse colpito più comunità la comunità del Longaronese di Castellavazzo di Ierto e Casso e di Vaiont però tutti i superstiti si sentivano uniti in questo unico evento e bisognava in qualche maniera consolidare questo sentimento per cui nasce nel 1998 così questo gruppo di lavoro che ha lavorato per due anni al fine di costituire un'associazione che si chiamò in quel momento associazione superstiti perché raccoglieva le esigenze di tanti di tanti superstiti delle varie comunità colpite ecco la nostra associazione nasce dalle ceneri di tante altre associazioni che erano nate prima e dopo il disastro del Vaiont prima se vogliamo ricordare il consorzio degli Erto Cassani che si opponevano alla costruzione della diga e all'innalzamento degli invasi perché significavano portare via loro dei terreni vitali e poi invece per la ricostruzione delle aree distrutte delle zone distrutte quei gruppi spontanei quelle associazioni quei comitati quei consorsi che nacquero per con la volontà di ricostruire con la volontà anche di dare un supporto una mano alle amministrazioni che erano impegnate fortemente nel programmare la ricostruzione ecco noi abbiamo in qualche maniera rilevato la filosofia di questi i sentimenti di chi aveva costituito questi gruppi queste associazioni e le abbiamo concentrate dopo una quarantina d'anni nella nostra associazione si chiama inizialmente associazione Vajont cioè associazione perdon superstiti perché è animata principalmente da superstiti questa associazione cresce in attività in supporti alle amministrazioni e anche nella condivisione di programmi memoriali se non che ci accorgiamo che poi dopo l'entusiasmo dei primi anni ci aspettavamo un ingresso di persone di altre persone anche esterne persone che non fossero superstiti e quindi abbiamo scoperto che questa parola superstite probabilmente era un deterrente creava difficoltà alle persone che erano vicine a noi ma non si sentivano superstiti e quindi non ritenevano neanche forse di avere il diritto di partecipare all'attività della nostra associazione e quindi abbiamo deciso con il 2013 quindi con il cinquantesimo di voltare pagina di guardare più al futuro e abbiamo chiamato la nostra associazione associazione Vaionti il futuro della memoria perché ci siamo resi conto che dopo 50 anni bisogna parlare di memoria di bisogna parlare di memoria collettiva di memoria civile sociale e di imparare qualcosa dal Vaiont principalmente proiettato per le giovani generazioni e quindi con il sessantesimo poi io concludo il mio periodo di presidente perché appunto se vogliamo parlare di memoria dobbiamo pensare anche che ormai i superstiti sono numericamente ridotti di molto i sopravvissuti poi ancora di più e quindi chi può portare avanti la memoria non possono essere che solo i giovani le giovani generazioni e quindi ecco che io mi sono fatto in parte sono rimasto dentro naturalmente nel consiglio direttivo dell'associazione Vaiont il futuro della memoria ma ho preferito che la presidenza venga portata avanti da gente più giovane che esprima nuove energie nuove idee e naturalmente che colga correttamente il testimone di noi superstiti di noi sopravvissuti che un po' alla volta per motivi anagrafici dobbiamo scomparire certamente penso che tu con la tua associazione e tutto quello che hai raccontato fino adesso abbia già in parte risposto a questa domanda ma mi piace portela ugualmente l'obiettivo di questa serie di episodi che io sto realizzando questo podcast se vogliamo è quello di parlare del disastro del Vaiont per farlo conoscere quanto più possibile come dicevi prima cercare di imparare dagli errori commessi affinché non si ripetano mai più quale pensi sia la maniera migliore di mantenere viva la memoria di questo disastro ma direi che quest'anno cioè nel sessantesimo c'è stato un forte dibattito all'interno della nostra associazione perché con la mia di partita da presidente abbiamo anche affrontato appunto il tema della memoria perché all'interno del nostro consiglio direttivo c'è una memoria di presenza nel senso che ci sono dei superstiti e di sopravvissuti e che quelli possono essere la testimonianza più vera più importante se vogliamo di un evento vissuto ma c'è anche una memoria che viene ricevuta da questi e che è rappresentata dalle giovani generazioni e che deve comunque raccontare con empatia il vaiont e trasmettere i segnali e i significati del vaiont alla gente e alle nuove generazioni e quindi diciamo che il dibattito di fare memoria è stato piuttosto corposo con una ottima partecipazione anche di ragazzi giovani che sono figli di superstiti o nipoti di superstiti ecco direi che in conclusione parziale nel senso che il dibattito è sempre aperto aperto perché vogliamo capire dove vogliamo andare dove vorrebbero andare anche i giovani con l'insegnamento del vaiont però per questo mi rifarei anche alle parole che ha pronunciato il presidente Mattarella quando è venuto il 9 ottobre del 2023 in cimitero no ha detto che bisogna pensare al futuro del nostro ambiente deve dobbiamo pensare ad una progettazione di una prevenzione sul territorio dobbiamo realizzare un territorio un ambiente più sicuro per i nostri figli riflettere naturalmente sul messaggio del che ci da il vaiont la storia del vaiont principalmente indirizzandoci alle giovane generazioni che saranno quelli che gestiranno il territorio un domani ma il messaggio è quello evidentemente di evitare tragedie ripetersi di tragedie che purtroppo se noi osserviamo i media e i quotidiani di ogni giorno purtroppo assistiamo alla vulnerabilità idrogeologica dei territori del nostro paese e quindi il messaggio più importante che secondo me deve uscire dalla memoria e dalla conoscenza del disastro del vaiont è che ci sia una maggiore coscienza sulla tutela del territorio concordo concordo pienamente con con questa affermazione assolutamente va bene Renato io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi grazie a te grazie grazie ancora del tempo che ci hai dedicato grazie per essere stati con noi ti rimando al prossimo episodio per approfondire una delle pagine più buie della storia del nostro paese saremo accompagnati di un nuovo ospite per ascoltare un'altra voce del vaiont